e non va mi dovete guardare i coni, non dentro ok? guardate certo perché non abbiamo paura certo ok questo è un legato, devo girare e non si ferma la musica ok avanti pronti la parte destra quando dico a destra quando dico a sinistra ok pronti pronti facciamo girare il piano a destra 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 sto amando ho visto un legato in mano ragazzi no perché ci qualcuno che ha due regali in mano facciamogliare una dai ma avete assicurato che ho visto un legato in mano Ok, andiamo A destra Un regalo in mano A destra Destra Un regalo in mano Ok, questo è un regalo Ok, un regalo in mano Ok, a destra Un regalo in mano Ok, questo è un regalo Ok, questo è un regalo